Salve amici del Vensitalia, in questo video andremo a vedere la seconda parte della prova comprensione della lettura dell'esame Celi 3 livello B2. Nella prima parte abbiamo visto un testo con domande e risposta multipla, anche il secondo è tale, però parliamo di un altro testo. Cominciamo leggendo prima le domande, quindi prima domanda, primo paragrafo, seconda domanda, secondo paragrafo e così via, perché alla fine seguono sempre questo ordine, non sono mischiate. Quindi, Giovanni Savarese doveva superare un esame per non finire fuori corso, per iscriversi alla facoltà di giurisprudenza, per poter dare la tesi di laurea o per prendere il titolo di dottore. Lo hanno arrestato ieri mattina, voleva comprare l'esame agli arresti. Lo hanno arrestato ieri mattina alla fine dell'esame, appena fuori dall'aula universitaria, in cui era stato bocciato per l'ennesima volta e si era così finalmente reso conto che senza ombra di dubbio, che gli euro pagati all'insegnante non erano serviti proprio a nulla, anzi sono serviti a farlo finire in carcere per l'accusa di corruzione. Non abbiamo ancora capito perché voleva fare l'esame. Il protagonista della vicenda è un giovane del Trentino Bene, Giovanni Savarese, 29 anni, di Riva del Garda, iscritto alla facoltà di giurisprudenza a Trento, fuori corso e figlio di Gianfranco Gioielliere. Per lo studente quello di ieri mattina doveva essere l'ultimo esame della sua interminabile carriera universitaria, l'ultimo ostacolo prima della tesi di laurea. Era infatti l'esame di diritto processuale civile, un mattone per il giovane Savarese, una sorta di incubo da cui uscire per poter ottenere finalmente il desiderato titolo di dottore. Non lo dice per non finire fuori corso perché sta così tanti anni all'università che è già fuori corso. Cosa significa fuori corso? Se voi state facendo la triennale in Italia e siete al quarto anno, significa che siete al primo anno fuori corso perché non avete più corsi regolari. Quindi, o se siete, se state facendo la laurea magistrale di due anni e siete al terzo anno, significa che siete al primo anno fuori corso. Per iscriversi alla facoltà di giurisprudenza, no, era iscritto da un bel pezzo e gli mancava l'ultimo esame, per poter dare la tesi di laurea o per prendere il titolo di dottore. Attenzione. Il titolo di dottore si ottiene quando si ottiene una laurea. La laurea si ottiene quando si sono svolti tutti gli esami e si è consegnata la tesi. In questo caso lui aveva l'ultimo esame prima di poter dare la tesi, quindi la tesi non l'ha ancora scritta. Anche se avesse superato l'esame, non sarebbe comunque diventato dottore perché gli mancava ancora la tesi di laurea. Quindi era l'ultimo esame prima di dare la tesi, quindi la C è la risposta esatta. Pur di superare l'ultimo esame, Giovanni era disposto a studiare giorno e notte. Ha chiesto gli appunti ai suoi colleghi che avevano seguito le lezioni. Ha pensato di corrompere la docente dandole di nascosto del denaro o era disposto a chiedere alla docente di impartirgli lezioni private. L'esame di diritto processuale civile si era rivelato una trappola. Così il giovane Savarese aveva pensato bene di ricorrere al sistema che gli pareva più sicuro, la bustarella, quindi mettere soldi in una busta. Alla docente di procedura civile, la milanese Elena Russo, nel dicembre scorso, con un approccio morbido ma inequivoco, attraverso una lettera non firmata, Savarese aveva fatto sapere di essere pronto a mettere mano al portafoglio per un regalino se fosse riuscito finalmente a liberarsi dall'ingombrante materia. Magari con un bel voto ma sarebbe andato bene anche un misero 18 pur di uscire da quel incubo e chiudere la carriera universitaria. Quindi mettere mano al portafoglio per un regalino, gliel'aveva detto francamente, approccio morbido e inequivoco, quindi diglielo lentamente, però inequivoco significa che non lascia spazio a fraintendimenti, a confusioni. Quindi ha cercato di corrompere la professoressa. E la risposta esatta anche qui è la C. Ha pensato di corrompere la docente dandogli di nascosto del denaro. Quando lo studente si è presentato agli esami, la professoressa si è arrabbiata, è rimasta incredula, ha accettato il regalino o ha respinto lo studente? Cosa ha fatto la professoressa? Ma la professoressa ha solo finto di prestarsi all'iniziativa del studente ha subito avvertito la squadra mobile di Trento di quanto stava accadendo. Così attorno a Giovanni Savarese si è sempre più stretta una rete che alla fine lo ha chiuso. In trappola uno dei momenti più delicati è stata la scorsa settimana alla vigilia della sessione d'esami, quando il giovane ha versato denaro sul conto corrente della professoressa. L'ultimo atto è arrivato ieri mattina. Lo studente si è presentato in aula visibilmente nervoso. quando è arrivato il suo turno e si è accomodato al banco d'esame con davanti la professoressa Russo e i suoi assistenti. Le domande sono iniziate ma le risposte non sono arrivate o sono state decisamente insufficienti. Incredulo, lo studente non riusciva più a capire quello che gli stava accadendo quando è sentito un equivocabile è stato bocciato, torni un'altra volta. Quindi la professoressa l'ha bocciato. Essere bocciato significa non superare l'esame. L'esame si supera con 18, il massimo è 30. Se prendi 17 dal 17 in giù, significa che non hai superato l'esame. Ed è quello che è accaduto con Savarese. Quindi la professoressa l'ha respinto. Non ha accettato il regalino. È rimasta incredula? No, era molto fredda, non incredula. Incredula significa aprire gli occhi, non credere a quello che stai vedendo, arrabbiarsi nemmeno. Era molto tranquilla, quindi la D ha respinto, ha bocciato lo studente. Quando lo studente è uscito dall'aula, ha capito di aver superato l'ultimo esame della sua carriera universitaria? No, perché l'ha bocciato. Se l'ha bocciato, significa che questa non è la risposta esatta. Non c'è nemmeno bisogno di leggerla. È stato ammanettato. Mettergli le manette, significa ammanettare. Si mettono le manette al criminale prima di mandarlo in carcere. Ha dato denaro ad una docente, era molto nervoso. Quando è uscito era molto nervoso? No, quando è entrato era molto nervoso. Perché, come abbiamo visto, si è presentato visibilmente nervoso. Quindi quando è entrato, quando è uscito, dice, allora si è alzato ancora sbigottito ed è uscito dall'aula. Lì gli si sono fatti attorno gli agenti della squadra mobile con la commissaria Tiziana che avevano seguito tutto mescolati tra gli agenti. Lo hanno arrestato e poi il pubblico ministero gli ha concesso gli arresti domiciliari. Chissà se Giovanni Savarese tornerà un'altra volta a fare l'esame di procedura civile. Quindi l'hanno messo in galera, in carcere. Significa essere stato ammanettato dalla polizia. B, la 9 è B. Quindi abbiamo detto C, C, D e B. Queste sono le risposte. Fate attenzione all'ordine che ho seguito io. Quindi prima leggete la domanda, poi passate alla risposta, continuate con domanda, risposta e così via. Questo è il modo più intelligente di svolgere questo compito. Vi ricordo che all'interno del mio canale, nella playlist CL3 livello B2, comprensione della lettura, potete trovare anche altri esempi di questa prova dei vari anni, tutte le parti della prova comprensione della lettura, ma non solo, anche quella relativa alla grammatica, la prova orale, produzione scritta, ecc. Questo era tutto quello che vi volevo dire. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!